Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ti viene su il cibo? Quando faccio lo sforzo, sì. Allora, cosa hai mangiato? Mangiamino. E' quello che ne ha detto riso. Eh, eh, ho capito. Coca-Cola, dammi la Coca-Cola. No. Vieni che mandi la foto a Bettina adesso, eh. Vieni la Coca-Cola e Ruti con la Coca. Ruti con la Coca! Eh, però vedi la Coca, venga. Oh, Ruta. Bruta. Ma fai, ti preoccupi di queste robe qua? Ma ci sentire però, eh. Dai, oh, te cazzo, 190 battiti. Cavati a fascia. E se in televisione si è traumatizzati.